Attraverso l'incontro, in questo caso, partiamo con una anche radicale discussione di noi stessi. Quindi io partirei dando direttamente la parola al nostro ospite, facendo una domanda abbastanza anche banale, che diciamo solo è una domanda in due parti. Innanzitutto da cosa nasce la scrittura di questo libro? E in secondo luogo il titolo abbastanza curioso, appunto Animali da Circo, come mai hai parlato di Animali da Circo in questo libro? Buonasera, l'esperienza nasce da un gioco, quando ero prima o nella seconda comunità che avevamo aperto di accoglienza a migranti, quando con i nostri ragazzi giocavamo un po' così a raccontarci cosa veniva in Italia e cosa veniva nei paesi d'origine. E ricordo che ho chiesto a un ragazzo della Nigeria, ad Henry, di sentire il suo fratello e di fare questo gioco. Noi descriviamo cosa vediamo in questo momento nella nostra Italia e lui ci racconta cosa vede nel suo paese. E noi raccontavamo che vedevamo, era autunno per cui gli alberi con i frutti e le foglie che cadono e l'orizzonte. E a un certo punto lui ci raccontava invece cosa vedeva. E vedeva gli effetti di una guerra devastante. Nell'istante in cui noi stavamo parlando, davanti ai suoi occhi lui vedeva mucchi di cadaveri, moschea in fiamme, chiesa in fiamme e gente che scappava. E questa cosa mi ha messo in crisi perché mentre noi viviamo la nostra vita nella totale tranquillità, mentre noi guardiamo la tv fatti di cronaca, tutto questo non è un film ma è una cosa che realmente succede. Da questo nasce tutto un ragionamento che ho fatto e che abbiamo fatto, in cui tutta questa inquietudine si è poi trasformata nella scrittura del libro. Animali da circo perché spesso i migranti sono ridotti ad essere animali da circo. Quante volte la gente mi dice possiamo venire nelle tue comunità a vedere gli immigrati, come fossero davvero animali da circo. Molte volte la gente ci dà questo immaginario di usare gli immigrati. Pensate a come in questo momento in Italia gli immigrati fanno schifo, perché è un termine talmente divisivo che quando tu poni la parola immigrato la gente subito si schiera. Però nel momento in cui arriva l'immigrato da sfruttare nel caporalato, allora quello è un immigrato che non mi fa più schifo. O quando vado in cerca della ragazza nigeriana di 16 anni, 17 anni, costretta a prostituirsi, allora l'immigrato non mi fa più schifo. Ecco, credo che oggi la parola immigrazione e un po' il contesto che stiamo vivendo riveli tanto la nostra ipocrisia. Per cui animali da circo forse in fondo siamo noi, perché siamo resi animali da circo dalla propaganda politica che stiamo subendo in questi mesi, in questi anni, che ci porta ad applaudire, ad osannare il messia di turno quando vengono anche calpestati i diritti delle persone. Infatti penso che sia fondamentale di prendere argomenti come quelli all'interno del libro, proprio in un periodo come questo dove razzismo, xenofobia sembrano essere pensiero mainstream quando in realtà è fatta di un insieme di piccoli gesti che comunque al contrario mostrano la ricchezza di quello che è la società civile, è la società nella quale abitiamo. E giustamente te dicevi, mostravi questa parola, immigrati. E appunto il primo capitolo di questo libro ho notato che si ripercorrono varie parole, varie parole che vengono molto dalla cultura africana, come Arambe, Ubuntu, che ci mostrano anche un piccolo la psicologia di un continente diverso che comunque è accogliente, che comunque... E finisce per mostrare queste due altre parole che si contrappongono, che ci differenziano che sono emigrare ed espatriare. Sì, l'immigrato emigra, il bianco, il ragazzino bianco che va a fare il college in Inghilterra, espatria. Credo che la parola razzismo in Italia forse ha sempre abitato il cuore delle persone, è che forse c'era il buon senso di non farla emergere. Credo che oggi l'immigrazione, un pochettino come quando si va a fare l'attack, che c'è liquido di contrasto, faccia emergere dei grandi cortocircuiti. Credo che un grandissimo cortocircuito che stiamo vivendo in questo momento è l'ipocrisia. L'ipocrisia grande, atroce, devastante, di trattare gli immigrati, le persone che arrivano, come una cosa sporca. E poi ragione, poi mi chiedo, in fondo il problema non è che quello che arriva è uno straniero, non è che quello che arriva è un musulmano. Perché quando arriva lo sceico ad inaugurare un centro commerciale, magari comprato con i soldi del petrolio, con i soldi del Qatar, non ce ne frega niente che questo sia un musulmano, non ce ne frega niente che questo sia uno straniero. Credo che il problema è che ci fa paura la povertà. Quelli che arrivano sono persone povere. E allora una società che si rifiuta di accogliere il povero, una società che nasconde i poveri, che li rende invisibili, una società che ha paura di allargare le braccia per dire quello che posso fare per aiutarti lo faccio, credo sia una società non sana. C'è un'ipocrisia anche nel mondo religioso, nel mondo cattolico. Io la denuncio in lungo e in largo in tutta Italia. Ormai la gente in chiesa si riconosce fratello e sorella e prega Gesù per i nostri fratelli profughi e poi esce di chiesa e firma il banchetto contro l'arrivo dei profughi perché non vuole i profughi nel proprio quartiere. E allora oggi l'immigrazione è una parola benedetta perché ci fa schierare. Tu subito vedi una persona nelle cose in cui crede, capisci subito da che parte sta, se sta dalla parte degli ultimi, dalla parte dei poveri o se sta dalla parte dei potenti, dalla parte degli oppressori. Ecco, proprio su questo appunto c'è anche quello in Africa, è stato anche l'incontro con una serie di luoghi che nel libro appunto sono molto ripercorsi che poi ci fanno pensare anche psicologicamente, socialmente noi come agiamo. Appunto si parla dell'azzareto, si parla della discarica, della discarica ovvero della differenza, di come attuiamo questi processi di differenziazione, di esclusione, eccetera. Ecco, nel secondo capitolo c'era questo elemento che appunto mi ha anche molto colpito. Il momento in cui fai una critica del termine interazione al quale contrapponi invece il termine interazione. Sì, su questo credo che dobbiamo fare una grande riflessione anche sul nostro stare accanto agli immigrati. Spesso pensiamo che l'immigrato che arriva nella nostra terra debba essere reso presentabile. E allora gli insegniamo a mangiare con la forchetta, con il coltello, gli diciamo tu sei musulmano ma la tua religiosità magari non farla vedere, le cose tipiche della tua origine, cerchiamo di pulirle. E allora spesso la parola integrazione significa ripulire, significa limare, significa rendere presentabile una persona che rischerebbe di essere impresentabile. Ma come? Come può essere una persona impresentabile nei suoi tratti identitari e caratteristici? E allora a posto di integrazione a me piace molto usare un'altra parola che è interazione. Le persone interagiscono, i soggetti si contaminano la vicenda, c'è un relazionarsi tra persone in cui ognuno con la sua identità, con la sua particolarità, con la sua specificità si incontra senza chiedere a nessuno di ripulirsi, di mondarsi o in qualche maniera di nascondersi. Ecco poi c'è appunto questo incontro con da un lato la morte all'interno di questo continente che spesso ci arriva così in una forma distante attraverso i grandi numeri dei morti in guerra di cui magari non sappiamo neanche il nome, l'origine, i passaggi geopolitici dietro, del quale magari non ci interessa neanche, di epidemie, di varie motivazioni che diventa quasi una brutta statistica che leggiamo. Proprio su questo anche il rapporto con vita e morte risulta molto diverso da questa. Sì, io ho visto ragazzini di otto anni morire davanti ai miei occhi di colera e vi assicuro che la morte di colera è una morte atroce. Ho visto davanti ai miei occhi ragazzi lebrosi che mi tendono la mano e cercano di salutarmi e vogliono toccarmi e io una frazione di secondo devo decidere se farmi toccare da un lebroso oppure no. Ed è in questi momenti che capisci che la vita non è un film, non è un cartone animato. Poi torno nelle mie comunità e riconosco i miei ragazzi. Noi in questo momento stiamo accogliendo circa un centinaio di ragazzi. Di questi cento ragazzi tutti, tutti hanno subito torture. Hanno il corpo che è una carta geografica delle torture dei vari lager libici. Ragazzetti di 16 anni, 15 anni torturati con le scariche elettriche. Bambini di 14 anni costretti a fare i tappeti umani nelle case dei libici perché per loro è prestigio poter camminare e entrare in casa del signore di turno calpestando un tappeto umano fatto da un africano. Abbiamo accolto ragazze arrivate incinta di quale? Dei dieci uomini che le hanno stuprate le notte prima di essere buttate in una barca. E allora vivere con gli immigrati oggi in questo cortocircuito della storia, in questo controsenso grande, ci mette costantemente a contatto con la vita e con la morte. Però ricordo anche le ragazze che incontriamo sulla strada costrette a prostituirsi quando mi dicono guarda che io quando sono col decimo cliente questa notte il pensiero che io faccio in questo momento è Dio fammi morire perché per me è meglio morire che vivere. E allora mi chiedo com'è possibile che un ragazzo di 16 anni, 17 anni, 20 anni a un certo punto nella propria vita pensi per me è meglio morire che vivere perché l'esperienza che sto facendo nella vita è un'esperienza vomitevole, schifosa. Come posso accettare che ragazzini che in questo momento sono nelle nostre comunità vivano con il peso di torture in mani vissute nel loro corpo e che debbano essere buttate fuori perché il decreto in sicurezza butta per strada questa gente, perché anche coloro che hanno il documento rischiano di perderlo, coloro che hanno avuto la protezione di due anni rischiano di perdere questa protezione e di essere buttati in strada. Come può nel nostro tempo, nella nostra società, buttare in strada queste persone che hanno vissuto queste esperienze di morte migliore di vita? Abbiamo in accoglienza persone che hanno visto morire in barca, amici, fratelli. Ricordo Paolo, un ragazzo che a un certo punto mi racconta, il giorno prima di uscire dalla nostra comunità mi dice guarda che tu di noi immigrati sai tutto perché sai tutto della Libia, sai tutto dei nostri paesi d'origine ma se tu fai caso nessuno di noi ti racconta una cosa, ed è vero io una cosa che non so dei miei ragazzi è il viaggio, del viaggio che hanno fatto dalla Libia all'Italia. So pochissimo, so il momento dell'arrivo, so quando sono imbarcati ma cosa hanno vissuto in barca? Io non lo so, pochi di noi conoscono e lui mi dice bene, io oggi vado via, per cui io ti dico la mia esperienza ero in barca e a un certo punto il gommone inizia a prendere acqua e il trafficante, colui che ci ha portato, con la pistola puntata mi ha detto fai la conta, fai la conta perché noi in acqua dobbiamo buttare una persona mi punta la pistola e io cosa faccio? Faccio la conta e sai la conta su chi è caduta? Su mia moglie e io ho dovuto prendere mia moglie davanti a tutti quanti per salvare tutti e buttarla in acqua e farla morire per quello che ha vissuto questa persona e per i racconti drammatici che noi ogni giorno ascoltiamo io a costo di farmi sputare ad osso da tutte le parti d'Italia continuo a dirlo che noi non possiamo noi umanamente non possiamo non accogliere dovremmo farlo bene, dovremmo farlo mettendo l'Europa di fronte alle proprie responsabilità ma noi non possiamo lasciare che la gente muoia in mare non possiamo lasciare che la gente stupisca queste torture in Libia ecco la risposta invece su questo delle politiche da parte della politica al contrario invece un inasprimento e anzi un imbarbarimento della politica stessa la criminalizzazione della solidarietà la rottura dei legami sociali delle reti di solidarietà è tutto basato su una contrapposizione che appunto sempre per tornare un'ultima volta su questo libro che appare proprio costruita in maniera appunto citando anche diabolica proprio una contrapposizione fra bianco e nero fra schiavo e non schiavo fra migrante e non migrante ed europeo ecco su questo come sì, è una contrapposizione che vede come sempre i poveri schiacciati perché poi le contrapposizioni finché le fanno i potenti finché le fanno i ricchi finché le fanno le persone che sanno parlare che sanno raccontare le cose la soluzione c'è il problema è che come sempre e come su tutto chi paga il prezzo più alto sono i poveri sono gli ultimi sono quelli che poi vengono schiavizzati nel caporalato sono quelli che poi vengono buttati sulla strada sono quelli che in tutta questa vicenda storica non gliene frega niente di essere migranti economici o migranti politici perché se una persona scappa dalla guerra io ti salvo, ti aiuto se una persona scappa dalla fame e magari causata dalle multinazionali europee o occidentali io non ti salvo e allora credo che in tutto questo controsenso noi dobbiamo essere siamo chiamati ad essere ostinatamente schierati dalla parte dei poveri ostinatamente schierati dalla parte dell'umanità senza sé e senza ma vedete a livello politico stiamo perdendo i temi più belli una volta la parola accoglienza la parola solidarietà i temi ambientali erano le cose che riempivano di senso le nostre giornate le nostre lotte adesso davvero sembra di lottare contro un muro sempre più grande e sempre più spaventoso credo che le nostre politiche oggi debbano essere politiche di senso che non hanno paura di schierarsi dalla parte dei poveri ecco per dare una nota invece di di chiamiamola anche non speranza ma di cosa noi possiamo fare ecco come come ci contrapponiamo come come facciamo a dare delle risposte contro questa questa deriva beh credo che la prima cosa che noi abbiamo imparato nella nostra esperienza di accoglienza in questi 4 anni 5 anni è quella di non stare zitti non rimaniamo zitti rendiamo ragione delle convinzioni che abbiamo nel cuore rispondiamo ai razzisti iniziamo a rispondere persona per persona situazione per situazione a chi continua a buttare fango a chi continua a buttare l'etame contro questa questa forma di di accoglienza che si sta facendo in Italia stiamo vivendo una pagina tristissima perché il decreto Salvini è un decreto criminale che butta in strada le persone non solo è un decreto che non solamente è razzista e bisogna iniziare a chiamare le cose con il proprio nome ma è un decreto che genera razzismo perché la gente vedrà questi ragazzi buttati per strada a centinaia e migliaia diventerà ancora più razzista la gente si incazzerà ancora di più si arrabbierà ancora di più e coloro che pagheranno il prezzo più alto saranno ancora una volta gli immigrati però il decreto Salvini è figlio di un altro decreto perché bisogna dire le cose come stanno che è il decreto Minniti che ha tolto un grado di giudizio un'altra azione altamente criminale poco rispettosa dei diritti delle persone e allora in tutto questo siamo chiamati a non cedere a non cedere nelle nostre coscienze ma anche nella nostra lotta in difesa dei diritti perché è il diritto di ogni persona a poter fare della vita un'esperienza bella inoltre su tutto questo c'è anche questa sostituzione appunto parlando proprio di decreto Salvini cioè si passa da un modello da un modello sparra da tentativi comunque anche meritevoli per per accogliere per integrare per fornire gli strumenti per includere nel territorio le persone che arrivano in Italia e questo viene sostituito con appunto CPR con tagli all'accoglienza e alle strutture di le strutture questa è un po' la risposta non è accettabile in Italia che un immigrato un ragazzo che arriva in Italia dopo due anni tre anni che ha compiuto un percorso di integrazione fatto di italiano di scuola di italiano certificata di contratti di lavoro di integrazione nel senso più alto del termine debba essere buttato in strada ma questo risponde perfettamente a una logica criminale che che sta distruggendo che sta destabilizzando per una campagna politica eterna perpetua cosa di cui tutti noi siamo altamente consapevoli perché fa più comodo avere gente buttata in strada che dorme nelle stazioni per avere sempre questa campagna elettorale continua che dei progetti di integrazione a Padova ci sono dei bellissimi progetti di integrazione fatti con i nostri ragazzi ci sono dei progetti in tutta Italia di integrazione che funzionano perfettamente che stanno a dimostrare come una persona che parte dal proprio paese buttata nel territorio nazionale possa essere accompagnata e guidata verso un percorso di piena autonomia ma questo ma questo funziona e questo funziona e dare diritto alla parola accoglienza dare diritto di dignità alla parola integrazione in Italia oggi oggi non si può e allora è meglio distruggere è meglio distruggere il modello Riace è meglio distruggere molti altri modelli che ci sono in Italia perché perché nella logica del potere di oggi questi modelli che funzionano non sono utili non sono utili al tornaconto elettorale ma lo sappiamo il problema è che noi abbiamo ragazzi che stanno lavorando con noi nel nostro ristorante in maniera meravigliosa che verranno buttati per strada e sapete qual è il problema il problema è che io continuo a dire ai miei ragazzi dai italiano è importante è importante che tu vai a scuola è importante che tu compia un lavoro di integrazione bello fatto anche di inserimento lavorativo ma poi alla fine io sarò l'ennesima persona che li prende per il culo perché se questi ragazzi alla fine di questo percorso dovranno essere buttati sulla strada nel suo cuore nella sua mente anche io farò parte di quelle persone che li ha ingannati perché gli ha promesso una cosa che non avviene cioè l'integrazione la possibilità di stare con dignità nel territorio nazionale e allora loro a un certo punto mi diranno vedi io ho lavorato con te ho lavorato per te ho fatto quello che tu mi hai detto e il mio futuro qual è? è andare a Rosarno a raccogliere pomodori per 2 euro all'ora sì infatti infatti nel libro anche evidenziavi queste contraddizioni proprio a partire da come da un lato ci sia appunto un continente che viene sfruttato che viene da cui si estraggono risorse si parla appunto di questo campo di ananas nel quale arrivano questi questi chili queste tonnellate di prodotti per i mercati occidentali e si parla anche dall'altro lato dell'acqua di come invece c'è nel senso diventi risorsa fondamentale che possa restituire anche la vita che viene usata anche come scusa per parlare di come al contrario ci siano un sacco di insegnamenti che invece arrivano proprio da questi ragazzi vedo si parla di come direttamente si offre l'acqua appena si trova qualcuno pensate che il mondo occidentale dona circa 40 60 miliardi di aiuti all'Africa meraviglioso di progetti di cooperazione meraviglioso però il mondo occidentale ne prende 118 di miliardi di materie prime allora coloro che dicono si riempiono la bocca con aiutiamoli a casa loro io condivido quelli che sostengono che il primo grande aiuto da fare per aiutarli a casa loro è prendere le nostre belle industrie prendere i nostri belli affari e tornarcene a casa lasciarli liberi questo credo sia il primo grande rispetto di aiutiamoli a casa loro perché perché noi stiamo riperpetuando una logica coloniale una logica di bianchi dominatori di fronte al quale il nero deve sempre abbassare la testa e dire sì signore vengo a rubarti e non solamente ti rubo la terra con il led grambing in questo momento ma anche ti chiedo di venire a lavorare te l'ho rubata te l'ho mangiata e anche ti chiedo di venire a lavorare da sottopagato perché sennò tu fai il morto di fame allora piuttosto di morire di fame è meglio che ti prendi dieci scellini da me bianco potente che vengo a rubare la tua terra vogliamo aiutarli a casa loro bene torniamocene a casa nostra benissimo beh un'ultima domanda almeno così relativa ecco invece appunto c'è un'ultima parola con la quale più o meno si termina il libro che è San Kofa se non mi sbaglio che si riferisce alla consapevolezza interiore ecco cosa come si è il guardare indietro per poter poi andare avanti nella vita io credo che dobbiamo smetterla di pensare che gli africani siano scemi io incontro molta gente che mi parla degli africani come del poverino poverino l'africano che arriva noi nelle nostre comunità abbiamo un approccio che è anche molto chiaro e anche molto severo noi con i nostri ragazzi compriamo un percorso di accoglienza di integrazione certo non è facile certo è complessissimo però cerca di trattarli da uomini non esiste il poverino africano che viene qui che ha bisogno di tutto arriva una persona con una sua dignità con dei diritti con dei valori con una consapevolezza che va valorizzata che va aiutata ad esprimersi però credo che il primo grande atteggiamento da parte nostra nei confronti di questi ragazzi che arrivano sia proprio quello di trattarli da uomini da uomini da adulti che sono artefici del proprio destino e del proprio futuro con il nostro aiuto certo con il nostro sostegno ma mai sostituendoci e mai usandoli per i nostri interessi bene un'ultima domanda un po' più scendendo sul panorama locale purtroppo a differenza di tante altre città si stanno già avendo i primi effetti appunto dei tagli dei cambiamenti che generano proprio sul punto dell'accoglienza il decreto Salvini su questo appunto c'è si è creata una situazione in città nella quale appunto non si è riusciti a fare un fronte abbastanza comune per contrapporsi contro come resistenza 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 con forza con coraggio però noi abbiamo bisogno anche di amministrazioni locali che abbiano il coraggio di dare la carta di identità di fare l'iscrizione a una grafica abbiamo bisogno di gesti semplici ma chiari coraggiosi e da gente schierata a favore dell'accoglienza a favore dell'integrazione altrimenti il rischio è quello di essere anche noi degli eterni bla bla che fanno dei grandi annunci che hanno dei grandi valori dei grandi proclami ma la gente continua a morire per strada la gente continua ad essere buttata per strada perché ogni volta che la prefettura che il governo butta per strada queste persone bisogna trovare altre strade bisogna cercare altre strade ed è davvero complesso ma ci sono delle strade che sono possibili che sono legali che sono anche di resistenza civile di disobbedienza civile allora alcuni segni una città bella straordinaria impegnata come Padova non può più non farli non può non schierarsi dalla parte dell'accoglienza e dell'integrazione nel senso alto del termine però la città ha bisogno di alcuni gesti chiari e schierati contro questo governo populista e razzista bene intanto grazie mille per queste risposte una nota così io penso che comunque Padova sia una città che comunque gli dimostra tutta una serie di anticorpi a questo imbarbarbarimento questo a partire banalmente questo festival è un piccolo esempio con il progetto Wellcome ma comunque anche da dicembre noi abbiamo un percorso attivo con una rete cittadina che coinvolge tante e tanti attivi proprio per costruire anche delle reti di mutualismo sociale che non lasciano indietro nessuno ecco io intanto parto con i ringraziati per per questa bellissima discussione io darei dieci minuti se qualcuno vuole fare domande dal pubblico magari invito a venire qua così almeno può prendere il microfono se qualcuno se la sente senza timidezze oppure oppure facciamo un commento un po' finale non so io continuerei appunto su questo cosa appunto possiamo fare come quali percorsi quale strategie come appunto continuare a coltivare questi questi anticorpi che ci sono che sono presenti senza lasciarci tradire da questa narrativa mainstream dell'odio e della discriminazione e del razzismo sì senz'altro quello di l'atteggiamento di far rete è essenziale fondamentale però anche avendo degli obiettivi ben chiari ben precisi nel senso che oggi in questo momento c'è un'emergenza che andrà sempre più a crearsi che sono le persone che vivranno per strada che sono dei progetti di integrazione che andranno a chiudersi che sono delle realtà belle nel territorio Veneto e Padovano che inizieranno ad andare in crisi perché 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 sentono isolate perché sentono sole e allora far fronte comune su questo è indubbiamente molto molto importante e credo anche che non si debba avassare la guardia dal punto di vista culturale c'è una cultura dell'odio che sta avanzando c'è una cultura davvero preoccupante secondo me un'onda nera che sta avanzando e che sta contagiando sempre più persone abbiamo addirittura degli immigrati di prima data che iniziano ad essere insofferenti intolleranti nei confronti dell'immigrazione iniziamo ad avere dei corti circuiti che iniziano ad essere pesanti che devono essere governati credo che su questo fare rete sia essenziale ma sia essenziale anche iniziare a porre delle azioni ben precise e ben chiare ecco allora grazie mille per questa presentazione io ricordo che il libro è disponibile presso la libreria di Sharebooks al 15% di sconto e grazie mille per grazie a voi grazie e grazie a tutti voi che avete partecipato siamo all'inizio del ventunesimo secolo il mondo intero è sconvolto dai cambiamenti climatici alla fine l'uomo ha scelto la violenza verso se stesso e verso la natura si dice però che esiste un luogo dove chi ha ancora la forza di vivere può trovare la felicità un'oasi nel deserto una terra promessa il paradiso non è ancora perduto e dove ora c'è solo polvere ed esolazione nascerà una foresta colma di vita e libertà a nucleare a nucleare a mona a